Sabato della quarta settimana di Quaresima, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano, Costui è davvero il profeta. Altri dicevano, Costui è il Cristo. Altri invece dicevano, Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la scrittura dalla stirpe di Davide da Betlemme, Il villaggio di Davide verrà il Cristo? E tra la gente nacque un dissenso riguardo a Lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di Lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro, Perché non lo avete condotto qui? Risposero le guardie. Mai un uomo ha parlato così. Ma i farisei replicarono loro, Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in Lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la legge, è maledetta. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse, La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Gli risposero, se forse anche tu della Galilea, studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E ciascuno tornò a casa sua. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco. Risposero le guardie. Mai un uomo ha parlato così. Non so perché, ma ogni volta che leggo nel Vangelo questa espressione, mi commuovo sempre. E poco importa se a dire questo sono le guardie del Tempio che erano andate ad arrestare Gesù senza riuscirci. Anzi, forse proprio per questo hanno il sapore di essere più vere ancora, perché vengono dalla bocca degli antagonisti di Gesù. Eppure è l'unica risposta che mi viene da dare a coloro che mi domandano, ma perché sei cristiano? Oppure perché sei prete? E io rispondo, perché mai un uomo ha parlato come lui? Ma i farisei replicarono loro. Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la legge, è maledetta. La sprezzante risposta elitaria dei farisei fa trasparire tutta la rabbia e la frustrazione che Gesù suscitava in loro. Sembrano sbrigativi nel dire che solo dei creduloni potevano andare dietro a lui, ma nessuno che abbia studiato si sognerebbe mai di ascoltarlo. Ed è proprio in quel momento che si alza la voce di uno che invece ha studiato e fa parte di loro. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse La nostra legge, giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Gli risposero Sei forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E ciascuno tornò a casa sua. La testimonianza di questo brano ci svela che il seguito di Gesù era trasversale. Non solo la gente più umile del popolo, ma ogni persona che aveva il cuore aperto all'azione di Dio. Con l'unica differenza che è così difficile delle volte restare con un cuore umile, docile e aperto, quando ci si convince di aver capito tutto di Dio.